Francesco Monte, parla il papà, il comportamento di Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip 2 Francesco Monte, parla il papà, il comportamento di Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip 2? Mi hanno insegnato che la migliore arma è l'indifferenza. Si sono espressi veramente tutti nelle ultime settimane sulle vicende che hanno visto protagonista Cecilia Rodriguez e Ignazio Mosera al Grande Fratello Vip 2. In tantissimi hanno criticato la scelta della modella argentina di lasciare il fidanzato Francesco Monte, dopo ben quattro lunghi anni di relazione peraltro in diretta nazionale per intraprendere una nuova storia con il ciclista trentino. Ed è proprio con quest'ultimo che la sorella di Bele si è lasciata andare alla passione sotto l'occhio indiscreto dei riflettori della casa di Cinecittà, incurante che i suoi comportamenti avrebbero potuto ferire l'ormai ex compagno, così come la sua famiglia, che l'aveva accolta a braccia aperte come una principessa. Effettivamente, stando a ciò che è possibile apprendere attraverso i social network, Cecilia aveva un ottimo rapporto anche con il papà di Francesco, il signor Angelo, e il fratello minore, Stefano, con i quali la piccola di casa Rodriguez si è mostrata più e più volte nei diversi scatti condivisi con i suoi numerosi seguaci. . 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